Mannaggia a me, è tantissimo che ne volevo parlare e non l'ho ancora mai fatto. Come funziona la mia accademia? L'accademia su Esmerise. Esmerise è una piattaforma per la frizione di videocorsi bellissima, straordinaria. Eccoci qua, allora questa sarebbe la pagina iniziale di qualcuno che ha comprato tutto il comprabile. Ci sono le anteprime gratuite, sono gratuite, ci sono dentro diversi contenuti. Entrandoci io vedo i diversi corsi. Questi sono tutti moduli all'interno dei quali si trovano le video anteprime. Ognuno ha quattro video che puoi guardare gratuitamente. Vedi che c'è un lucchetto o una volta che io ho finito di guardare questo si sbloccherà il secondo video. Qua posso trovare le descrizioni eccetera, faccio play oppure segna come visto. Segna come visto, torno al modulo, il secondo video con la sua descrizione, il tempo è stato sbloccato. Qui di fianco c'è la chat, quindi si scrive in chat. Tutti i partecipanti all'accademia possono scrivere in chat, possono rispondere. Ci sono dentro naturalmente anch'io rispondo. Un altro posto dove ci si può confrontare è il forum. Nel forum io ho messo diverse cose, tra cui per esempio come installare questa accademia su smartphone. Sia Android che iPhone hanno la possibilità di avere tutto quanto sul cellulare. Sul cellulare tu potrai andare a guardare i vari video dei videocorsi ascoltandoli anche con il cellulare spento, come se fosse un podcast. Qui in basso puoi vedere la percentuale di completamento del videocorso. Alcuni videocorsi, oltre ad avere dei video, hanno divisi magari per moduli, hanno anche dei modelli, degli strumenti, dei documenti che ti aiutano per esempio nella strutturazione. Oppure nel corso creare i personaggi ci sono anche dei quiz. Di questo è bloccato ma è un quiz dove puoi andare a verificare l'apprendimento del corso stesso. Quindi oltre a una fruibilità fantastica che ti tiene il segno eccetera eccetera, ti dà il completamento del corso, oltre alla chat e al forum dove si può discutere, fare domande, chiedere. Naturalmente anche sotto i video stessi ci possono essere i commenti a cui io posso rispondere e che restano. Questo per esempio è l'esercizio di domenico nel laboratorio di scrittura di quest'anno. Quando le ore di consulenza escono e sono disponibili, trovandole nell'accademia si possono acquistare andando a scalarle naturalmente. Oltre a questo c'è la sezione premi dove si possono comprare gli avatar degli scrittori con i punti che si guadagnano con l'avanzamento del corso. E pensa che tutto questo si può fare anche da cellulare comodissimamente grazie a un'app dedicata che funziona esattamente allo stesso modo. Che dire, una vera meraviglia. Se sei curioso o curiosa di dare un'occhiata in prima persona non c'è nessun problema, non devi comprare niente. In descrizioni trovi il link alle anteprime gratuite, devi fare un account su Esmerize e puoi navigare tra le anteprime gratuite e vedere come funziona effettivamente Esmerize. E se hai domande non esitare a farle nei commenti. Se vuoi saperne di più su alcuni dei miei corsi puoi anche leggere le pagine dedicate a tutti i corsi sul mio sito www.lucanesler.com Trovi il sito in descrizione. Ti saluto, stammi bene. Ciao ciao.